Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video Oggi ragazzi vi mostro come ottenere account Minecraft Premium gratis Quindi se volete giocare, non so, Mineplex o tutti i server Premium che volete E non avete un account Premium, ecco a voi il sito dove ottenere i FreeMC Account Ragazzi questa è la pagina, vi lascio il link in descrizione Voi dovete soltanto fare GetMCAccountNow e ve ne da uno Però ragazzi c'è un problema, se date su BanInfo Ecco c'è scritto, ci sono dei server Premium, quelli famosi Dove ci sono degli account che sono stati bannati Adesso questo non è bannato, quindi not banned, quindi è pulito Poi ne volete un altro, caso mai quello è bannato Come potete vedere questo è bannato Da Mineplex a Pixel e Cubecraft E niente, se sono bannati fate GetAnotherAccount E guardate se anche altri account sono bannati Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo mi piace Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti